Presenza Cosmoprof per il primo anno, come avete recepito questo ingresso alla Fiera Internazionale della Bellezza? Guardi, la presenza per noi, essendo una start-up, è stata fondamentale ed è stata estremamente interessante soprattutto per l'approccio che abbiamo avuto con i rivenditori stranieri, sia di fascia araba, sia di mercati asiatici ed americani. Capite bene come per un'azienda innovativa, vedremo poi i prodotti che realizziamo, avere avuto un riscontro così positivo subito il primo anno, sinceramente un gran complimento che facciamo a noi stessi. Un'azienda che produce un arredamento per saloni, che è un vero e proprio arredamento quasi domestico, di design, con delle linee bellissime e dei colori sicuramente di tendenza. Quali sono state le tendenze che avete rintracciato? Guardi, ha sottolineato bene il tema della casa. La nostra azienda nasce in Brianza, quindi patria del mobile italiano, patria dell'esportazione nel mondo del mobile. Abbiamo scelto di avere questo feeling, riportare l'ambiente domestico, i colori caldi dell'ambiente domestico in ambito lavorativo. Non dimentichiamoci che oggi le persone passano molto più tempo sul posto di lavoro che a casa. Il nostro core business è far sentire le persone che operano in questi ambienti, farle sentire a casa. E ci dà un accenno del prodotto di punta? Guardi, il prodotto di punta attualmente più venduto e più richiesto, questa linea si chiama Scena, realizzata internamente sulle nostre linee di produzione, vanta la possibilità di essere finita in decine e decine di colorazione di superficie e di materiali, personalizzabile, quindi su richiesta sia standard a catalogo ma anche come personalizzazione.